Troppo vogliosa di vincere, l'arcanatese oggettivamente troppo giovane il Castelnuovo, in campo inizialmente con addirittura 9 under. Ecco in sintesi spiegato il 3-0 di una partita che non ha praticamente avuto storia, con un monologo leopardiano dal primo al triplice fischio. Determinati, grintosi al punto giusto e soprattutto concentrati, i leopardiani non hanno concesso nulla agli abruzzesi, sciorinando anche un buon calcio con il solito refrende e le tante occasioni create dei pochi gol concretizzati. Ma tant'è, stavolta non si deve rimproverare nulla e protagonista è stato un ex Mario Titone, autore di una doppietta e forse con un pizzico di rabbia in più rispetto agli altri. Ha annunciato turnover per Pagliari che schiera una formazione inedita con Alessandretti, centrali difensivi in coppia con Ferrante, Morazzini e Brunetti sugli esterni, Giaccaglia, metronomo di metà campo. Subito all'ottavo l'occasione per i parroni di casa per passare in vantaggio. Titone approfitta di un disimpegno errato degli ospiti, vince un contrasto, dribbla un avversario ma Olivieri è bravo a respingere di piede. Al ventiduesimo Pezzotti lavora un buon pallone sulla sinistra, assist per l'attivissimo Titone che si costruisce un buon tiro deviato però in angolo. Non c'è storia, ventisettesimo tagliatissimo traversone di Pezzotti, Grieco ci arriva in scivolata ma in precaria coordinazione mette a lato. Subito dopo Morazzini recupera palla in difesa, appoggia per Liguori che offre un eccellente assist per Titone ma un difensore in extremis devia in angolo. Dagli e dagli il gol arriva, proprio lo scadere del primo tempo, gran controllo di Liguori, finale di stagione superbo per lui, prima conclusione respinta ma Titone in agguato non può sbagliare. Ripresa, Manari cerca di dare un po' di vivacità alla sua squadra ed appena entrato si costruisce un tiro insidioso che termina a lato. E' un fuoco di paglia però, al diciannovesimo su angolo di Liguori svetta di testa incustodito Brunetti che manda però a lato. I giochi si chiudono al ventitresimo, Gomez controlla sulla destra, appoggia Liguori che punta l'avversario, si accentra e trova l'angolino giusto sul quale Olivieri non può arrivare. Il tris al trentaseiesimo ancora con Titone che devia sottoporte in maniera efficace un calibrato traversone, poi subentra la stanchezza e senza recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia. L'area canatese dunque aggancia in classifica il Castelnuovo e domenica battendo la vastese potrebbe chiudere al settimo posto. Non sarà un granché rispetto agli obiettivi iniziali ma viste le traversie forse è il caso di accontentarsi. Giovanni Pagliari nel post-gara. Mister, per la classifica è una partita che forse contava poco però la prestazione vista in campo, il risultato che è arrivato è più diciamo una vittoria per il cuore, per quello che hanno dato i ragazzi per tutto l'anno e soprattutto in questa partita avendo giocato anche mercoledì. Sì, sì, avevo detto che l'obiettivo nostro era cercare ai ragazzi di arrivare a 50 punti, siamo a 47, speriamo domenica di finire bene. Ma io questo gruppo qui lo ringrazio perché sono due mesi e mezzo che gioca a calcio vero, poi ci sono gli errori e tutto però da piacere vedere. E poi la cosa bella è che chiunque gioca fa bene. Oggi voglio dire giocavo in mezzo a campo Quercio e Giaccaia, hanno fatto benissimo, sono veramente contento perché significa che il gruppo mi ha seguito, significa che è un gruppo che c'è idee perché qualcosa ha recepito. Cambi giusti al momento giusto per poi chiudere la partita, diciamo era quello che cercavi. Sì, sì, ripeto, chi ha giocato ha fatto bene, chi è entrato ci aveva entusiasmo di chi vuole giocare perché il gruppo si è ricompattato, un gruppo veramente di persone serie che hanno dato tutto, dai più giovani ai più vecchi e di questo ne sono orgoglioso.